Buongiorno regalque, come andrete? Bentornati da un nuovo video sul canale e quest'oggi siamo qui ritornati per un nuovo episodio di Forza e Salva al Mondo. Se vi siete persi l'episodio precedente dove abbiamo fatto gli ultimi 8 quinti, ultimi 8 quinti e non i primi 8 quinti, perché avevo rete scarsa, dell'obiettivo Fresh Logic, il video ve lo lascio sempre in alto a destra nelle schede. Obiettivo di oggi, Power to the people, forza alle persone. Dobbiamo ispezionare 7 trasformatori di energia elettrica in zona 70. Io per pura intuizione dico che è Ghost Town, perché prima dava i cerchini con l'obiettivo precedente e adesso no. Vabbè, via! Via! Ok. Grazie a tutti i nostri spettatori di energia elettrica. Siamo iniziati a fare il vostro modo. Aspettate di attraverso qualsiasi blu gluo che vedete. Quindi, cosa pensi? Aspettate di un paio di presenti. Un paio di presenti? Non, 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 non! Comandante, attraverso qualsiasi presenti che vedete. Non dimenticate di dare loro un buon shake. Non dimenticate di dare loro un buon shake. Grazie a loro un buon shake. Vedete di usare un buon look viaggio per il raffia gemacht. Non, però dicono. Aveoque un buon danno un buon 밝asso! Certo! Che di mai interf ende di raff Beetle Slice? Vuoni qui cari pelle Bonjour, le glielo! Aveo un buon da quella l ‑‑ Accludatives sau le dimentce! Ogni di t東西. Agree di agree! Agree di agree Willow! Nonna andilla. Quanto di questi hai scoperto? Pensavo che ti voglio sapere, quindi non mi racconto. Credo che sia sicuro che ci sarai un'esplosive presenti per anni. Questo non è vero. Hai detto che ho scoperto il Christmas? Sì, e il New Year! E ogni giorno, fino a che troviamo il resto di questi bombi. Che non ti senti mai. E questo è io! Sì! Ahha! Un'altra, fantastico! Now you know everything I never wanted you to know while I'm alive. And you robbed yourself of a real cinematic funeral for a friend moment. It was a nice letter. And yes, I'll take care of Pop and Loc, and Dennis, and the heroes, and survivors, and everyone else on your very long list. And I'm glad you consider me a friend. A true friend non ti fa scrivere un secondo, a letter di più di più di più. Questi sono esplosive state-of-the-art. Ma cosa usavi? Blu-blu-bombium? That stuff is extremely heavy. I mean, blu-glob-bomb-onium. No, non da parte. Sorry, you're breaking up. The spirit world will return your call in order it was received. Beh, la posizione non è delle peggiori, eh. Vabbè, siamo pronti. Via. Questa c'è una di poco. We've got a bonus in play. E pensa, pensa che c'è pure il medico e quello con lo scudo. non è piaciuto. E ancora altri nemici elettrici. Non è specificato il tipo di minaccia. non capisco io. Se non è specificato il tipo di minaccia vuol dire che non ne deve uscire tutta di un tipo. E via con la seconda parte. Intanto c'è... neanche qua, però, dove ti va a bonus perché ci sono sempre nemici elettrici. No, no, no. Neve abbiamo cosa altro da lanchare? Andiamo a rilassare! Sinceramente, la loro partita non è piaciuta. Non mi è piaciuta. Solo per i nemici elettrici. Solo per i nemici elettrici. Ti do fare le trappole di fuoco. E anche le armi. Andiamo a rilassare. Perché non è potibile Solamente quello del vo-2 è lanciato Beh, ho messo il tuo livello 4 Ma sinceramente l'obiettivo non mi è piaciuto Volevo fare tutto perfetto E invece non è riuscito Solamente 100 fan base 84.6k 11 pulmini in bottiglia Altri 100 reperc Tu senti a noi per un ucciso Per trovare soccolo? È la cosa che contiene Non c'è un po' di ticco So you're not wrong The difference between a great holiday and a terrible holiday is attitude So to make it through the season Just imagine that even the smallest thing could blow up in your face And destroy you and everyone you love And also the neighbors Okay, just to be sure Did any of the presents contain bombs? It's better if you don't know It's better if you don't know Not for me! For a threat level For a chance at turning the monsters from our door You're right And I think it's funny Bye! Ha 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 If we want to try and have the worst Christmas ever It's the thought that counts And when it comes to terrible Christmas There's only one team to ask We need Ted and the Misfit Toys Just hope we can find them Last I heard they went seriously AWOL Vero Vabbè Gli ultimi tre settimi di obiettivo lo farò da solo E ci rivediamo direttamente con l'episodio chiamato Have you tried turning it on and off again? Tanta roba 84K XP sopravvissuto E un sopravvissuto leggendario leader Tanta roba Beh, tutto questo lo faremo nel prossimo episodio